Assestamento e rendiconto al via la sessione di bilancio. Disturbi alimentari, l'aula ha iniziato l'esame del testo unificato. Noleggio bus, agevolazioni prorogate a fine 2022. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Ha preso il via a Palazzo Lascaris la sessione di bilancio che dovrebbe concludersi entro i primi giorni di agosto. È terminata in prima commissione la discussione generale dell'assestamento al bilancio di previsione 2022-24 ed è stata avviata quella relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 che per concludersi necessita del giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti. Sono anche stati nominati i relatori all'assestamento. Si tratta di Federico Perugini, Lega per la maggioranza, Sean Sacco, Movimento 5 Stelle, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Daniele Valle, Partito Democratico e Silvio Magliano, moderati per le opposizioni. L'assessore al bilancio, Andrea Tronzano, affermando che le scelte politiche vengono rimandate ad un successivo documento di variazione che si spera di presentare entro luglio, ha sottolineato il carattere tecnico dell'assestamento. Proprio come i tre emendamenti illustrati rispettivamente di adeguamento alla nota integrativa di correzione di un refuso nella disposizione sulle competenze dei revisori dei conti e di migliore specificazione dell'impatto sulle annualità di bilancio della spesa come richiesto dal MEF. Le opposizioni sono intervenute nella discussione generale con Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Raffaele Gallo e Diego Sarno, Partito Democratico, Silvio Magliano, moderati, Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre e Mario Giaccone, Monviso, sottolineando l'insufficienza di fondi per il diritto allo studio e i voucher scuola, il diritto allo studio universitario, le non autosufficienze, le fragilità e la psichiatria, stabilizzazione dei lavoratori della sanità e la sperimentazione senza animali. Ci occupiamo ora di disturbi alimentari, problematiche che colpiscono soprattutto i più giovani e la cui diffusione è cresciuta durante pandemia e lockdown. L'Aula Consigliare ha iniziato l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Il provvedimento è frutto del gruppo di lavoro sulle quattro proposte di legge in materia presentate rispettivamente da Sara Zambaia, Lega, Domenico Rossi, Partito Democratico, Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia e Silvio Magliano Moderati. Il nuovo testo, come hanno spiegato i primi firmatari delle PDL, nonché relatori in aula del provvedimento, intende promuovere interventi volti alla cura dei disturbi della nutrizione e potenziare l'offerta dei servizi e delle prestazioni, mettere in atto azioni per il riconoscimento, l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione, riservando una particolare attenzione all'età evolutiva per una precoce presa in carico e andando sempre più in direzione di trattamenti omogenei sull'intero territorio regionale. Si prevede inoltre la costituzione di un osservatorio regionale. Siamo riusciti a comporre insieme maggioranza e minoranza il miglior testo legislativo in Italia su un tema così delicato, così importante come quello dei disturbi della nutrizione. Una delle questioni a cui la legge vuole dare una risposta è quella post-acuzie, quando le persone dopo il ricovero tornano a casa e hanno bisogno di essere seguite, perché altrimenti ci troviamo di fronte a tantissimi casi di recidiva che annullano anche un po' l'intervento precedente. Noleggio bus, agevolazioni prorogate a fine 2022. Prorogate le agevolazioni per i noleggi bus. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 198 che contiene le disposizioni urgenti in materia di trasporti. Come ha spiegato l'assessore Maurizio Marrone, il DDL proroga a tutto il 2022 il provvedimento che lo scorso anno aveva sospeso l'obbligo di consegna per via informatica di alcuni dati sui requisiti e attività aziendali. Questo per evitare di penalizzare ulteriormente i gestori dei servizi di trasporto pubblico e le imprese di servizi di noleggio autobus con autista, colpite pesantemente dalla crisi pandemica. Il rappresentante della Giunta ha poi assicurato che questa proroga utile soprattutto alle aziende di piccole dimensioni per via dei costi del software necessario non compromette i principali controlli sulla bontà del servizio erogato. In dichiarazione di voto, Andrea Cerutti, Lega, ha rimarcato la validità del provvedimento. Da una proroga importante a tutti coloro che si occupano di trasporti, parliamo dei noleggiatori di autobus, di tutte quelle aziende che gestiscono il trasporto pubblico, locale e regionale. Quindi aver dato ancora oggi una proroga di un anno a questi soggetti qua è un grande segnale di responsabilità. Il relatore di opposizione, Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle, ha parlato di difficile comprensione e di dubbi sulla sospensione del dovere informativo, manifestando preoccupazione per i pendolari. La parte della sospensione per quello che riguarda i mezzi di trasporto su gomma, anche se forse si poteva lavorare meglio, è concepibile. Quella sul debito informativo, secondo noi, forse in questo momento era inopportuna. E proseguita in aula, l'illustrazione degli emendamenti, sono oltre 400, affirma Movimento 5 Stelle, Movimento 4 Ottobre e Liberi Uguali Verdi, alla proposta di legge presentata dal presidente del Consiglio regionale Stefano all'Asia, che istituisce la festa del Piemonte. Per celebrare la ricorrenza, è stata scelta la data del 19 luglio, anniversario della Battaglia della Sietta del 1747, in cui le truppe dei Savoia respinsero l'attacco francese. Il provvedimento coinvolge il centro Gianni Oberto, istituito da una legge regionale, nella definizione di un calendario di ricorrenze celebrative e amplia il numero degli enti che espongono la bandiera del Piemonte in occasione di avvenimenti di particolare importanza locale o regionale. L'esame del provvedimento proseguirà nelle prossime sedute. Palazzo Lascaris sarà sottoposto a una serie di opere di restauro. A deliberarlo l'ufficio di presidenza, che ha anche effettuato un sopralluogo nell'adiacente palazzo dell'ex Banco di Sicilia, acquisito dal Consiglio negli anni scorsi, e che sarà presto restituito alla fruizione della cittadinanza. Palazzo Lascaris, storica sede del Consiglio regionale del Piemonte, necessita di interventi di recupero e restauro. Per questo motivo, nei mesi scorsi, l'ufficio di presidenza ha deliberato una serie di lavori, che da un lato riporterà la struttura al suo splendore settecentesco, dall'altra adeguerà la struttura alle nuove norme di sicurezza. I lavori saranno eseguiti attingendo dalle economie realizzate negli ultimi anni, e quindi non comporteranno la necessità di un finanziamento apposito da parte della regione Piemonte. Verranno ripristinate le facciate esterne e interne, si interverrà sul tetto e anche all'interno, laddove le nuove regole per la sicurezza impongono adeguamenti strutturali. Capitolo a parte, sarà quello dedicato all'adiacente palazzo dell'ex Banco di Sicilia, acquisito negli scorsi anni dal Consiglio, e già in uso nella sua quasi totalità, che diventerà sede della Biblioteca della regione Piemonte, attualmente ospitata in via Confienza, e dell'URP, ora situato in via Arsenale. Un'altra perla del Centro Storico Torinese, che nei prossimi mesi verrà restituita alla cittadinanza, anche con la possibilità di fruizione quotidiana di alcuni spazi al piano terreno. Martedì, durante la pausa dei lavori d'aula, sopra il luogo dell'ufficio di Presidenza. Noi avremo la possibilità di far visionare i volumi più preziosi della nostra Biblioteca, della regione Piemonte, all'interno dei cavò e all'interno di questa sala, che diventerà sala di pubblico utilizzo. Siamo in centro a Torino, mancava una biblioteca fruibile per tutti, con una vastità e una pluralità di volumi della regione Piemonte, messa a disposizione di tutti. I ghiacciai critici del Piemonte saranno monitorati dalla regione con ARPA, ad annunciarlo l'assessore Marco Gabusi, rispondendo a Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, nell'ambito dei Question Time. Il ritiro dei ghiacciai è la manifestazione più evidente di un cambiamento climatico in atto. Ciò che desta maggior preoccupazione è la progressiva accelerazione del ritiro, che impone una revisione degli scenari climatici più ottimistici predisposti dagli scienziati. Lo scrive in una nota il Comitato Glaciologico Italiano. A questo proposito, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, nell'ambito dei Question Time, ha chiesto all'assessore alla difesa del suolo, Marco Gabusi, di illustrare il piano di monitoraggio dello stato di salute di tutti i ghiacciai piemontesi. Stiamo lavorando in collaborazione con ARPA Piemonte alla redazione di un inventario dei siti noti per criticità legati alla dinamica glaciale, già oggetto di interventi, ha sottolineato Gabusi. A questo seguirà la promozione di un tavolo di confronto con i soggetti ordinariamente impegnati nello studio dell'evoluzione degli ghiacciai piemontesi, per verificare l'attuale quadro e ulteriori situazioni di particolare vulnerabilità. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.